E improvvisamente mi accorgo che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto e Dio ti ho tanto amato nel nome del silenzio ma mi sono rotto di non sentire niente Quindi caro Gazzidis datti una svegliata perché voglio sentire i nomi Buongiorno amici della Zoccola dura buongiorno 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 Iniziamo subito Volevo aspettare ancora queste due settimane prima di arrabbiarmi però inizio a sentire troppe cose contrastanti Cioè dentro di me ribolle Poi sento che anche voi mi scrivete nei commenti nelle cose Ma allora Gattuso rimane no ti prego Allora ragazzi Gattuso non rimane Mettetevi nella testa Un giorno scrivono Gattuso rimane Il giorno dopo Gazzidis che va a Londra Leonardo che va via Ma questa di chi è la colpa di tutto questo? La colpa è della società Una società La società dei magnaccioni La società della gioventù A noi ci piace De mani e beve Vabbè stavo dicendo Che poi mi perdo Fammi prendere la glucosamina Aspetta Che la glucosamina mi serve Per la spalla Serve anche per le ginocchia Allora stavo dicendo Della società Per non fare la fine Della Roma Che cosa sta combinando la Roma Tra l'altro Baldini Pallo Non si capisce più niente Vabbè Il Milan Ragazzi miei Sta facendo Sta politica Del silenzio Che non porta Nessun vantaggio Anzi Ha rotto le scatole Cioè Ha proprio stancato Questa politica Del silenzio No io non voglio silenzio Io voglio sapere Sono un tifoso Voglio sapere Adesso si faranno Gli abbonamenti Tra l'altro Ho sentito Ci saranno i rincari Per gli abbonamenti Io non sono di quelli Che dice No Non devono alzare i prezzi Allora Alzi i prezzi Mi devi comprare i campioni Se vuoi alzare i prezzi Non che alzi i prezzi E vada a vedere che si Cioè Mi compri i campioni E alzi i prezzi Allora Poi non è che mi posso lamentare No Non è che mi posso lamentare Se mi compri i campioni E alzi i prezzi Allora ti dico Va bene Poi dipende quanto Soprattutto Dipende che campioni Perché Cioè Campione è campione Ovviamente Quindi Basta questo silenzio Basta Io voglio sapere Voglio sapere Adesso vi do ancora due giornate Poi Inizia una guerra Qua su questo canale Fuoco e fiamme Fuoco e fiamme Fuoco e fiamme Inizia una guerra Ve lo dico Perché mi sono veramente Rotto le scatole Poi Cosa fondamentale Che il sudafricano Si deve mettere in testa Gazzogazzidis Noi non siamo l'Arsenal E non vogliamo essere Come l'Arsenal Cioè l'Arsenal L'Arsenal È una società di perdenti Tu arrivi Da 15 anni Di perdenti Perché per 15 anni Non hai vinto il campionato E non lo vinci nemmeno quest'anno In Champions Non esisti Non esisti Hai vinto due coppe delle fiere A noi non ce ne frega niente Quindi partiamo dal presupposto Che tu arrivi qua Non come Un campione Ma come un perdente Partiamo da questo presupposto Quindi sei tu Che verrai giudicato da noi E non noi che veniamo giudicati da te Per qua sembra che è arrivato Hitman E mo decide Leonardo Tu a Leonardo Lo devi Lo devi guardare dal basso Dal basso guardi Leonardo E dici Aspetta prendo esempio Partiamo da questo presupposto Per qua sento dire Deciderà Se rimane Leonardo Se no prendiamo Campos Ma chi è sto Campos? Ma tu pensi di venire qua A fare l'Atalanta? A fare l'Arsenal? Forse non hai capito Che qua Ti mandano a casa subito Subito lo mandiamo a casa Soprattutto adesso Che Se davvero l'Inter compra Un terzo di quelli che dicono Un terzo Neanche la metà Un terzo Se l'Inter Arriva a Conte Godin E comprano un terzo Di quelli che hanno detto Qua Milano Si rivolta Se non ti sveglia a comprare Se tu ti presenti Consensi Duncan Creici E quella gente lì Che sto sentendo Orsolini E tutto quest'altro Ciarpame Forse hai capito Che la gente ti viene A prendere a casa A casa A casa ti viene a prendere Io per primo Ti vengo a prendere a casa A prenderti a calcire il culo E quella è la strada Forse non hai capito Che non siamo qua Ai comodi suoi Che non becchi un euro Non becchi un euro Non becchi Perché se non fai contenti tifosi Non becchi un euro Hai capito? No che sia chiara sta cosa eh Perché adesso per ora Mi sto tenendo calco Questa politica del silenzio Mi sono stancato Di sto silenzio Voglio sentirvi parlare Anche perché Sono talmente silenziosi Talmente Scusa 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 Talmente silenziosi Talmente silenziosi Scusa Talmente Talmente silenziosi Che Nemmeno i giornali Sanno niente Cioè Mi fanno morire I giornali Testate sportive Anche online Ma anche importanti Che scrivono Nello stesso momento Nello stesso Nello stesso momento Due cose Completamente Contrastanti Cioè Di cavolate Ne hanno sparate sempre Perché È la normalità Sparare cagate Soprattutto quando Non ci sono notizie No? E ci può anche stare A volte ci marciano Anche sopra Lo accettavo anche Ma avere Due Idee Completamente Cioè Un giorno Confermato Gattuso Giorno dopo Sarri Vicinissimo Al Milano Giorno dopo Leonardo Ha preso Quello là Giorno dopo No Leonardo Dove va via Cioè Decidetevi Decidetevi Cioè Non sanno niente Nemmeno i giornali Nemmeno i giornalisti Non sanno niente Niente Non sanno Ma non per colpa loro Per sta politica Del silenzio Vabbè Io sono stanco Ve lo dico Stanco 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 E ancora Non ho fatto niente È vero che anche Le altre squadre Non è che hanno notizie Anche di Allegri Un giorno È esonerato Già esonerato Ferri Corti È andato L'altro giorno Confermato Oggi Confermato Allegri Vanno via Di Bala E Cancelo Poi No arriva Miajlovic Sulla panchina Miajlovic Cioè Inizio Veramente Non capirci più niente Quindi Testa al Frosinone Testa al Frosinone Ieri tra l'altro Erano insieme Gazzini Smaldini Leonardo Ah io vi dico Da quello che so io Qua a Milano Perché poi mi chiedono Anche gli amici Mi chiedono Tu cosa sai Che sei lì a Milano Da quello che so io Qua a Milano E non ho fonti Della verità Della verità Della verità Io vi dico Da quello che so io Leonardo rimane Gattuso va via 100% Champion Non c'è Gattuso va via Per allenatore Chi arriverà Non lo so Ci muoveremo Comunque ci muoveremo E ci muoveremo Anche sul mercato Il Milan si muoverà Si muoverà Anche sul mercato Non grandi nomi Ma si muoverà Soprattutto giovani L'obiettivo primario Dovrebbe essere Da tonali In su Quello è Che sarà Il movimento Del Milan Io dico Che mi può anche Star bene Sta politica Dei giovani Ma voglio Un grande allenatore Un grande allenatore Chiaro? Limpido Recuaro E sto campus qua Non mi interessa Oggi Tra l'altro spuntava Un'altra fonte Tare Tare vicino al Milan Tra l'altro Tare Un ottimo scopritore Di talenti Però A che pro Stai mandando via Leonardo Lascialo lavorare Ancora non ha avuto Una campagna acquisti Lascialo lavorare Poi ribadisco Prima di andare via Leonardo Deve andare via Gazzidis Perché Gazzidis Rispetto a Leonardo È un perdente totale Cioè Quando Gazzidis Vede Leonardo Deve dire Scusi Signor Leonardo Posso chiederle che? Allora parla Poi Se parliamo di calcio Se parliamo di scoprire Giocatori Se poi parliamo Di fare sponsorizzazioni Andare a prendere Accordi Con le società Che ti pagano Allora lì Gazzidis È un signor Gazzidis Ma siccome ad oggi Non sta Portando sponsorizzazioni Soldi Niente Zero Perché ad oggi Io non ho sentito Nessuna sponsorizzazione Se questo viene qua A parlare di calcio Uno che non ha vinto niente Zero Zero Cosa ha vinto? Due Premier League Ma neanche Cosa ha vinto? Due Coppe delle Fie Niente ha vinto Cosa ha vinto? Di conseguenza Se vuole venire qua A dire No ragazzi Non dobbiamo Fare l'accordo Con la Puma Dobbiamo fare l'accordo Con Con la Riboc Ma esiste ancora la Riboc Per dire Allora Perché ci danno di più Io lo ascolto Ma non venisse a parlare Di calcio Non venisse a parlare Di calcio Con quella testa pelata Che c'ha Non venisse a parlare Di calcio Ok Comunque ragazzi Allora Vi ricordo Sotto in descrizione Gruppo Telegram Fondamentale Ci sono un sacco Di novità Che sto Sto facendo delle robe Ragazzi Sto cercando Di creare Una community Proprio forte Per iscritti Di qualità Poche notifiche Massimo 4 5 Al giorno Al giorno Quindi non è un gruppo Chat che ti dà fastidio No 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 Solo poche notifiche Nel quale C'è il mio video Non so se si può dire C'è una gazzetta Una gazzetta Dello sport Tutti i giorni Non so se si può dire Però Z E Contenuti speciali Sia miei Tipo uno al giorno Sia Sto facendo Collaborazioni Con altri personaggi Famosi Che mettono Anche i loro video Solo per Gli iscritti speciali Dello gioco duro Quindi Ho aperto tra l'altro Il sondaggio oggi Se volete Solo i miei contenuti O anche quelli di altri Vi ricordo di venire Trovate tutto in descrizione Chi Non lo trova Tanti mi hanno scritto Su instagram Non so Riuscite a entrare Di qua di là Poi alla fine Si poteva entrare comodamente Mi potete scrivere Su instagram Su facebook Da per tutto Da per tutto Mi trovate da per tutto E questo È quanto Questo è quanto Penso di avervi detto Tutto Mettete like Iscrivete Vabbè Solite robe E noi ci vediamo A questo punto O nel gruppo telegram O su instagram O domani Per il prossimo video Per la proscenza Oggi non penso Che ci siano altre Grandi notizie Se ci fossero Se ci fossero Comunque mi trovate Su questi canali qua Va bene Buona giornata a tutti Fate i bravi Forza Leonardo Abbasso Cazzidis Per ora Per ora Per ora Abbasso Cazzidis Se farai qualcosa di buono Up Per ora Down Se fai qualcosa di buono Up Per ora Down Bravo